bentornati amici cattolici torna l'amatissimo format che fine hanno fatto oggi ci occupiamo di un telefilm estremamente divisivo per quelli della mia generazione ovvero beverly hills 90 210 c'è chi come me lo ha amato perlomeno nelle prime stagioni e chi lo ha odiato sin da subito però oggi non siamo qui per discutere se la serie era una ciofega o se invece fosse un capolavoro oggi quello che vogliamo fare è di scoprire che fine hanno fatto gli attori del cast e come sempre lo faremo dopo che è finita la sigla partiamo dai fratelli walsh partendo da quella peperina che era brenda al secolo l'altrettanto peperina chanel doherty dopo la sua uscita dalla serie per qualche anno la sua carriera si è per lo più concentrata su film per la tv con qualche incursione al cinema grazie a quel geniaccio di kevin smith la doherty è apparsa in due dei suoi film generazione x film poco conosciuto ma imprescindibile se amate i fumetti e tutto l'immaginario nerd che ne consegue e dopo questo compare anche in giant seal and bob fermate hollywood altro film non famosissimo ma che secondo me va recuperato soprattutto se avete amato clerks nel 1988 aaron spilling la chiama per interpretare una delle tre sorelle aliwell in streghe la serie viaggia costantemente tra il pezzotto e il geniale ma ci regala oltre alla nostra amatissima shannon anche quel sogno di donna che è alissa milano e scusatemi se è poco la serie diventa di culto soprattutto negli stati uniti e porta di nuovo alla ribalta all'attrice che però è durata nella serie solo tre stagioni questo a causa del suo caratterino e della sua poca professionalità sul set sta di fatto che dopo la sua burrascosa uscita dalla serie non ha mai più partecipato a produzione di rilievo immagino che a quel punto aaron spilling scottatosi per ben due volte abbia fatto terreno bruciato intorno alla doherty quindi non ha più lavorato in verità ha lavorato ma in produzioni di reti minori nel 2004 infatti è nel cast di north shore soppopera che è durata solo una stagione considerando che ci stanno telenovelas che durano da 30 anni e passa non mi pare questo grandissimo risultato dopo di questo gira un pilot per una sitcom cucita su di lei dal titolo wing woman il pilot viene venduto alla paramount che però non appena ha avuto i diritti per prima cosa manda a casa la doherty e cambia il cast e renomina la serie con il titolo di love inch comunque nonostante il trattamento shock la serie dura una sola stagione nel 2008 dopo 14 anni dalla sua uscita dalla serie serie che l'ha resa famosa torna di nuovo a vestire i panni di brenda in quello che è l'ideale continuo ovvero beverly's 9210 spin off brenda oramai attrice e regista di successo torna alla sua vecchia scuola per dirigere il musical di fine anno la sua apparizione rinvigorisce la serie e alla fine diventa un personaggio ricorrente tanto che gli sceneggiatori per mettere un po di pepe al telefilm che risulta un po asfittico pensano di farla interagire con la sua eterna rivale ovvero jenny garth anche lei tornata con il suo vecchio personaggio di kelly siccome le vecchie ruggini tra le due attrigi non si sono mai risolte del tutto ai produttori basta poco per capire che non è cosa dopo di questo per diversi anni ha fatto la comparsata in vari programmi televisivi simili reality tipo ballando con le stelle nel 2019 riprende per la terza volta il ruolo di brenda in quello che io considero un vero e proprio accanimento terapeutico ovvero bh 90 210 nel frattempo la povera shannon si è ritrovata a combattere con un tumore al seno molto aggressivo ma noi sappiamo che anche lei è tosta e tifiamo tutti per la sua guarigione dopo brenda credo che sia un obbligo morale occuparci del fratello televisivo ovvero brandon dopo la sua uscita di scena della serie il buon jason priestly rimane comunque nello show ma come produttore ruolo che rivestirà fino alla fine dello spettacolo nel 2004 entra a far parte del cast di true calling con il personaggio di jack harper che è una specie di versione maschile della protagonista la produzione introducendo il suo personaggio a metà della prima stagione voleva dare un pizzico di pepe alla serie che vivacchiava purtroppo però jason non riuscì nello scopo e dopo una sola stagione uscì definitivamente dal progetto che comunque non superò la seconda stagione nel 2006 entra nel cast di love monkey serie che racconta la sfortunata vita di un manager discografico come il protagonista anche la serie non è che sia proprio fortunatissima partita benino con 8 milioni di delle spettatori alla prima puntata già alla terza boccheggia a tal punto che la cbs cala la mannaia senza troppi dubbi nel 2007 è protagonista al cinema con un film che io definirei spiazzante nel senso buono della parola però ma che sinceramente non riguarderei una seconda volta il titolo è amore e morte a long island se avete voglia e tempo guardatevelo e poi fatemi sapere che ne pensate che sono curioso scrivetemelo nei commenti nello stesso anno è anche uno dei protagonisti della serie side order of life telefilm che racconta la vita di una fotografa che mette in discussione la sua vita e la sua carriera dopo che la sua migliore amica scopre di avere un cancro terminale purtroppo per jason priestly anche questa serie non supera la prima stagione dal 2008 fino al 2016 si dedica quasi totalmente alla regia dirigendo anche una pellicola con il suo amico e collega hugh perry il film in questione è good night for justice nel 2016 torna a fare l'attore nella serie poliziesca ma brillante private day produzione canadese che però è ben riuscita a figurare anche negli stati uniti la serie però non è andata oltre la quinta stagione a causa del covid che ne ha bloccato le riprese e ha messo fine al progetto in attesa di qualcosa di nuovo si dedica alla gestione del suo team di corse nella categoria indie dopo i fratelli walsh è tempo di parlare della bionda kelly in arte jenny garth dopo la serie jenny è la protagonista di una serie di discreto successo arrivata anche in italia con il titolo di le cose che amo di te la serie racconta il difficile rapporto tra una sorella maggiore interpretata dalla garth un pizzico nevrotica e maniaca del controllo e la sorella minore in piena fase adolescenziale e quindi per definizione principessa del caos nel 2008 come già abbiamo raccontato prima torna a impersonare di nuovo kelly per lo spin off di beverly hills nel 2019 anche lei torna per la terza volta a vestire i panni di kelly per quella morfo esperimento sociale che è bh 90 210 dopo di questo a parte qualche apparizione in diversi programmi televisivi come ospite si è dedicata principalmente al suo allevamento di cavalli e ora passiamo alle note dolenti del video luke perry dylan quello che all'epoca era visto come il nuovo fonzi nel 1995 alla ricerca dei ruoli più sfidanti lascia la serie e approda in italia recitando nel film vacanze di natale 95 se non è un salto di qualità questo io non so che dire nel 1998 vista la sua carriera sfolgorante sul grande schermo era un passo da reinverdire il franchise di pierino recitando a fianco di alvaro vitali ovviamente sto scherzando ma non del tutto torna a recitare in beverly hills dove rimarrà fino alla fine dopo la fine della serie nel 2004 è il protagonista di una produzione canadese il telefilm jeremia tratto dall'omonimo fumetto franco belga ha come showrunner michael strazischi che se non lo conoscete oltre a essere il creatore di babylon 5 è un prolifico autore di fumetti ed è stato anche uno degli sceneggiatori della signora in giallo la serie post apocalittica come babylon 5 aveva un arco narrativo già programmato di cinque stagioni ma la mgm per il riordino interno dei progetti ha segato la serie che non stava affatto andando male e l'ha fatto a metà della seconda stagione facendo incazzare non poco strazischi dopo questo palo yoke perry nel 2008 è uno dei protagonisti della serie windfall che racconta come un'enorme vincita alla lotteria stravolge la vita di una cittadina di provincia anche questo progetto però non va oltre le 13 puntate dopo di questo si è dato principalmente al doppiaggio e al teatro con qualche sporadica apparizione come guest star in alcune serie di successo due per tutti will and grace e community nel 2017 entra a far parte del nutrito guest di riverdale serie horror ispirata ai personaggi della herky comics e questo sarà il suo ultimo lavoro perché nel febbraio del 2019 a seguito di due gravissimi ictus arrivati in rapida successione purtroppo è morto bene dopo questa triste parentesi occupiamoci della figlia del boss ovvero tory spelling tory a parte qualche film per la tv finita la serie ha fatto ben poco almeno fino al 2008 quando con una microscopica frazione dei soldi che doveva prendere in eredità circa 800 mila dollari insieme al marito iniziano a mettere su un progetto dove acquistano una vecchia locanda la trasformano in un locale alla moda contando di bed and breakfast il tutto ovviamente trasformato in una docu fiction che racconta ogni passaggio del loro progetto la serie negli stati uniti è trasmessa dalla oxygen e si intitola tory and in home sweet hollywood tutto il progetto è durato ben sei stagioni nel 2009 come molti altri anche lei torna a vestire i panni di donna nello spin off di beverly hills ma solo per una puntata dopo di questo sempre con suo marito da vita una nuova docu serie dove i due lasciati panni dei locandieri vestono quelli dei wending planner nel 2016 la coppia cambia ancora e da vita alla terza docu serie dove lei e il marito e la prole si trasferiscono in ontario per ristrutturare una casa in mezzo al nulla titolo della serie tory and in cabin fever purtroppo però il matrimonio tra lei e l'attore dean mcdermott ha iniziato a scricchiolare i due pare che siano sul punto di separarsi e ora dopo la sfortunata tory passiamo a jan zering che nella serie era steve sanders dopo la fine della serie jan pareva aver imbroccato la strada giusta vincendo diversi premi grazie a due film indipendenti man versus monday e strip and down il primo dei quali ha anche prodotto e ne ha curato la regia però qualcosa deve essersi inceppato perché da lì in poi solo apparizioni come guest star in telefilm e programmi televisivi come ospite ma noi veri appassionati non possiamo non ricordarlo per quel capolavoro trash che è sharknado di cui è orgogliosamente protagonista a tal punto da esserlo per ben sei film se però al peggio non c'è mai fine nel 2019 anche lui torna a vestire i panni di steve in bh 90 210 dopo la sfolgorante carriera di jan di cui aspetto impazientemente un settimo film sugli squali volanti occupiamoci del penultimo personaggio della serie ok so che ci sono ancora un botto di attori che si sono succeduti nel cast ma per ovvie ragioni tecniche non posso parlarvi di tutti quindi accontentatevi che già dalla registrazione mi l'idea che il video sarà bello lunghetto brian austin green dopo la fine della serie si è dato alla carriera di rapper ma purtroppo per lui non è riuscito a emulare eminem e dopo un solo album è tornato a fare l'attore dopo diversi anni come guest star arriva l'occasione come protagonista di una sitcom intitolata freddy purtroppo però il progetto è stato massacrato dalla critica e dal pubblico e quindi chiuso dalla abc dopo la prima stagione nel 2009 entra a far parte del cast della serie terminator serie che cerca di riportare sul piccolo schermo l'universo creato da cameron nella serie brian è derrick reese il fratello di kyle ovvero il padre di john connor se avete visto il film non vi devo spiegare nulla se non l'avete visto beh guardatevelo perché spiegarlo a voce è un casino di dimensioni apocalittiche anche lui come il fratello mandato indietro nel tempo per evitare che il capo della resistenza venga ammazzato dall'ennesimo terminator la serie non va oltre la seconda stagione e a mio parere è durata due stagioni di troppo nel 2010 è un personaggio ricorrente in disperito's wife dove interpreta uno dei tanti filarini di brie nel 2012 è nel cast di hunger management serie che porta sul piccolo schermo quel gioiellino di film che è terapia d'urto nella serie a prendere il posto di nicholson è charlie shin telefilm che per inciso è stato trasmesso anche da noi su italia 1 finito anche con brian austin green andiamo all'ultimo personaggio di cui ci occupiamo in questo video ovvero gabrielle caterix che nella serie era andrea zuckerman dopo la sua uscita dal telefilm per raggiunti limiti di età gabrielle si è ritagliata a un posto di spicco nel mondo del doppiaggio prestando la sua voce a una quantità infinita di personaggi televisivi cinematografici e videoludici nel 2019 anche lei torna a vestire i panni di andrea zuckerman in bh 90 210 mi pare di non aver scordato nulla quindi se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale a cliccare sulla campanellina per non perdervi i prossimi se volete contribuire in maniera più diretta alla crescita del canale c'è sempre la possibilità di abbonarsi e quindi di ottenere diversi vantaggi alcuni dei quali fighissimi come ad esempio la possibilità di scegliere insieme a me i prossimi titoli da portare sul canale o il canale telegram dedicato dove potete parlarmi direttamente e come sempre se volete che parli del vostro telefilm preferito non dovete far altro che scriverlo nei commenti ciao